rigged, rigged ragazzi, voglio entrare nel profilo di sottofilo di butte non prendiamocela con chi perde, giochiamo per chi ha vinto non solo sono contento perché ero pronto a fare un anno di contenuto senza fare contenuto videoludico ero pronto, ero prontissimo ma questa è la vera prova che non solo l'amore esiste ma che puoi, lo dico con tutta la serietà del mondo, puoi esprimerlo anche grazie ai videogiochi questo è il problema che comunque come ho detto, Spider-Man appiccicheranno la scritta nominata di Fuggera World sul loro gioco mediocre ripeto, non pensiamo a chi ha perso, fa un culo veramente, non mi interessa niente sono molto contento, io su Instagram ho parlato molto di questa cosa qua mi sono lamentato del fatto che la gente, la gente che acclama Spider-Man 2 o è stupida, o non ha mai giocato a un videogioco prima d'ora o non ha idea di cosa voglia dire entrare a fare un'esperienza di Baldur's Gate ad esempio, a me non piace Fortnite ma sarei veramente un faccia di merda a insultarlo solamente perché non piace a me cioè c'è da riconoscere quando un'altra cosa è letteralmente superiore a quella che ti piace a te e non puoi dirlo solamente perché quella che ti piace a te ti piace a te cioè c'è veramente un'aggettività da prendere nel mondo videoludico che va ben oltre quelli che sono i nostri gusti ed è una cosa che io durante tutto quest'anno nel mondo del giornalismo videoludico italiano non ho visto per niente ma togliendo le menzogne sopra le menzogne il plauso che viene fatto a Baldur's Gate per me non è stato mai abbastanza c'è stato e è stato tanto ma non è mai abbastanza perché veramente esce un gioco di questi ogni dieci anni forse lui ha detto una cosa molto vera è impossibile fare un gioco del genere a meno che non c'è pure un team che merita il Games Award ragazzi è davvero pazzesco se giocate a Baldur's Gate riuscire a vedere anche senza nessuna competenza di programmazione e di creazione di videogiochi è incredibile quanto tutti possano riuscire a vedere l'immenso amore che c'è in questo videogioco e mi fa così piacere che abbia vinto perché per me non dovrebbe neanche essere categorizzato vicino agli altri cioè per me vedere Spider-Man 2 o Alan Wake nominati assieme a Baldur's Gate 3 è già un insulto al mondo videoludico e lo dico senza nessuna esagerazione ragazzi è così, è così e basta e a volte sono così stanco di avere delle idee così constatate sui videogames che vengono sempre contraddette dal giornalismo italiano ma in realtà anche mondiale dei videogiochi che mi sento un faccia di merda ogni volta io uno dei motivi per cui ho abbandonato il parlare dei videogiochi online è perché la community dei gamer è fra la più idiota del mondo cioè ha in mano veramente uno dei media migliori del mondo e devono farmelo odiare devono farmelo odiare io uno dei motivi per cui odio i videogiochi da 15 anni a questa parte perché diciamocelo non li apprezzo non li ho mai veramente apprezzati l'unico motivo per cui ci sto appresso è che penso sia veramente un medium che può esprimere qualcosa e quando tu metti vicino a Baldur's Gate 3 un gioco come Spider-Man 2 vuol dire che a te l'esprimere qualcosa non ti importa non te ne frega un cazzo non stai elevando questo media ad arte lo vuoi tenere a oh questa cosa mi ricorda il film quindi mi piace non è un modo degno di trattare il media e io non sto dicendo non bisogna giocare a questi giochi solamente perché sono più brutti di altri no ma abbi la capacità se pensi che il videogioco sia parte della tua vita soprattutto a livello serio artistico e ti ha dato tanto di dire Baldur's Gate 3 è meglio di tutto il resto e non perché vince un premio perché la mia idea non sarebbe per niente cambiata se l'avesse vinto la week 2 ma perché se ci giochi ti accorgi immediatamente che se ti piace è perché è meraviglioso e se non ti piace è perché è troppo meraviglioso per te punto sono troppo contento io ho giocato tutti i giochi in nomination ma hai giocato D&D odio i giochi a turni non mi piace l'ambientazione e ho amato Baldur's Gate 3 wow è assurdo l'amore è la direzione che c'è in quel gioco mi hanno fatto apprezzare cose di cui sono stato lontano anni perché non mi piacevano e me l'hanno fatto amare si meritava il godi e si meritava di essere ricordato nella storia sono troppo contento non solo di leggere il tuo messaggio sweetboygen88 ma di sapere che molta gente ha avuto questa tua stessa storia cioè non si è mai avvicinato a quel mondo perché quel mondo sa di pc sa di plastica sa di una community che se non hai mai calcolato per tanti anni è difficile entrare ora giocare a Baldur's Gate 3 senza aver mai giocato niente anche di simile tempo prima nella propria vita è letteralmente come imparare un nuovo strumento sarebbe figo ma chi cazzo ha la voglia il tempo quindi lo capisco benissimo capisco l'estrema difficoltà che ha la gente ad approcciarsi a una cosa del genere ma quando si tuffa in un mondo così ti viene voglia di imparare è come se stai imparando un nuovo gusto in bocca una nuova ricetta cioè hai difficoltà a dire cazzo devo imparare ancora devo studiare ancora non basta la scuola non basta la vita poi trovi così profondità in quella cosa che non lo vedi neanche come un impegno o come un lavoro ma come un prendimi fammi tuo insegnami come si gioca a questo gioco gioco perché ne vale ogni pena e non lo saranno neanche vale ogni piacere e ogni godimento questo godi è stato conteso solo da due titoli sono d'accordissimo ma come fa a mettere spiderman che ne hanno fatti tre uguali no ma non lo so non lo so no ragazzi io ho passato veramente mesi ad andare su facebook a vedere video di sta merda di gioco lui che salta e la gente fa wow goti goti è pesante è pesante è veramente pesante per me a volte leggere alcune cose vi giuro vi giuro vi giuro vi giuro ma pure nei commenti piangevano che non ha vinto spiderman 2 sono bimbi sono bimbi è gente che non ne capisce nulla e spiderman vende per questo motivo qua perché c'è gente che non capisce nulla ed è questo il fatto che non puoi neanche dire che stronzi cioè quando io ho finito qui medium racconto sempre questa storia perché va abbastanza rotto il culo l'abbiamo finito assieme ed era un gioco horror di merda di merda e poi abbiamo raidato quella ragazza là che lo stava giocando era tipo a metà gioco e lei diceva no mi sta piacendo come faccio a togliergli quella felicità a una povera fessa che non ha nessuna idea di un videogioco divertiti let's go se vuoi iniziare da questo let's go cioè come faccio a dire non provare divertimento ma un conto è giocare videogiochi scoprirli e capire anche grazie all'esperienza che devi rivalutare delle cose del tuo passato che devi ricondire ok una cosa è questa e l'altra è parlare pubblicamente di videogiochi quando non hai giocato un cazzo ed è là che le tue esperienze oggettive ma non solo muoiono ma non non le nominiamo neanche non c'è veramente bisogno di parlare di cosa cazzo hai vissuto tu se si sta parlando di cosa dovrebbero vivere tante persone sono premi importanti per me io ogni volta che mi sono lamentato su Instagram la gente veniva da me e mi diceva tranquillo Marco e sono come gli Oscar è vero è vero però però vorresti che gli Oscar andassero a qualcuno che se lo merita e vorresti che un premio importante andasse a qualcuno che se lo merita io voglio sempre questo ma anche per una pubblicità per il fatto che voglio che quelle persone che si sono spaccate il culo abbiano un pezzo di schifo di metallo di un tizio così nel cassettino cioè voglio che lo mettono là sopra sono cose giuste che devono succedere quando non succedono o si va verso un mondo dove non dovrebbero succedere io piango perché sarà che i videogiochi non mi piacciono più come un tempo da tanto tempo ed è una mia insonnia che sto continuando a dire a me stesso perché comunque mi piacciono a livello artistico mi piacciono le idee dei videogiochi non tanto giocare però sono legato da un certo punto di vista molta gente come ha detto il tizio sta meglio grazie ai videogiochi sono un modo per sfogare sia creativamente che proprio giocandoci ed è importante al di là di quelle che sono i miei gusti per tanta gente spiderman non l'ho giocato mi sembra un giocarino è godibile non da godi ovviamente ma non mi sembra una merda è pazzesco vederlo semplicemente vicino a zelda o giochi come questi ma che sono 89 la penso come te ho amici più vecchi di me che hanno ancora il durello per la roba come spiderman 2 certe persone sono perdute bisogna accettarlo non rivaluteranno mai questa roba vogliono farsi piscine in testa e tripla e dei ma ma è buono che esista questa gente ma let's go i videogiochi cioè il mondo dei videogiochi è bello come quello della musica e di qualsiasi arte perché è vario e ognuno può trovare la sua cosa mia madre se domani mi chiamasse e mi dicesse Marco ho rivalutato il tempo passato assieme voglio giocare a un videogioco io farei una ricerca scientifica per consigliarle il migliore per lei per lei non le direi mai no mamma Final Fantasy Metal Gear no quindi è buono che ognuno abbia il suo sono contentissimo lui semplicemente sì sì ma la pletora di scelte allora Baldur's Gate 3 allora ci sono dei giochi del passato che sono groundbreaking nel senso che sono usciti hanno fermato il tempo e non possono essere più riprodotti i giochi della Larian sono stati spesso così nel senso che sono così profondi che tu veramente li giochi oggi quelli vecchi e dici merda non c'è niente così in giro Baldur's Gate 3 ha le stesse cose dei giochi di cent'anni fa sempre loro ma potenziati a un livello così inimmaginabile quindi sono delle vecchie meccaniche però molto groundbreaking per quei tempi rese così assurde che pure per questi giorni sembrano comunque avanti questo è una specie di gioco vintage ma così pompato di steroidi che non ci puoi credere non c'è quasi niente di next gen ma poi anche sta frase next gen io ho smesso di vedere roba assurda nei videogiochi soprattutto nei AAA da quanti anni boh da sempre cosa c'è di davvero diverso negli indie trovo delle varianti trovo delle idee trovo delle anime e poi ditemi la vostra Spider-Man 2 il non essere godi lo ha dimostrato non vincendo nulla che piacere cazzo che piacere voglio voglio domani mentre faccio colazione voglio trovarmi un fan davanti a me e dirgli allora faccia di merda ma mio figlio lo gioca sempre ma certo tu puoi far giocare a tuo figlio quanto cazzo vuoi a Spider-Man certo anzi fammi conoscere tuo figlio gli stringo la mano e poi gli faccio ma ficcati quel gioco di merda nel culo quando si parla di giochi che di merda non lo sono oppure parliamone per un'ora intera e fammi fare un contenuto che la gente piace ma che ne so molto meglio stare otto ore a scegliere come attaccare un amico quello è divertente cento volte di più doc Andre cioè la tua ironia te la ficchi nel culo idiota cento volte di più ma cento volte di più ma non esiste ma tu mi stai mettendo il gioco a patatine del tuo cervello che ormai ti muovi per memoria muscolare senza pensare a niente senza mai stare attento a niente gli stessi modelli poligoni dei nemici per cento ore di fila così con un gioco dove devi stare cento ore a fare una mossa se no perdi il tuo personaggio non può più parlare per quel momento là vattene a fare in culo ma però la wake è carino quello che cazzo dici tu doc credi a tutto ciò che dici perché io mi trovo in disaccordissimo starfield che che bello che non c'era che bello che bello che bello paranoia ciao ciao